Avrebbero ingigantito alcuni danni prodotti dal maltempo sulle strade per giustificare l'affidamento urgente a ditte compiacenti, evitando le gare d'appalto. È una delle accuse alla base di un'inchiesta su presunta corruzione che vede tra gli indagati in tutto una trentina di persone. Anche l'attuale sindaco di Vagli di Sotto Giovanni Lodovici e il vice sindaco Mario Puglia, ex primo cittadino della comune in provincia di Lucca. Una trentina anche le perquisizioni in abitazioni, uffici e privati richieste dalla procura. Tra le ipotesi di reato a vario titolo ci sono associazioni a delinquere finalizzate alle truffe, falso ideologico, abuso d'ufficio, corruzione, turbativa d'asta e riciclaggio. L'operazione è stata coordinata dalla procura lucchese e condotta in sinergia dai carabinieri forestali, dalla guardia di finanza, dalla squadra mobile e dai carabinieri.